Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi andremo a fare l'estrazione del contest, questo contest qui che vedete di Netflix, andiamo a fare l'estrazione del vincitore. Allora, innanzitutto vi faccio vedere che ore sono, sono le 19.10, più o meno l'orario in cui ho fatto uscire il contest ieri sera, e quindi andiamo ad estrarre il vincitore. Andiamo sul video, prendiamo il link E facciamo questa estrazione ragazzi, vediamo chi è il fortunato Faccio rivedere l'ora Andiamo ad incollare il link Caricherà tutti quanti i commenti Allora, vediamo, vediamo ragazzi Allora, qui mi dice che sono la bellezza di 53 commenti Ricordatevi i requisiti ragazzi Allora, vediamo lui se è iscritto al canale Il like ce l'ha lasciato, eccolo qui Però, gli mancano le iscrizioni ragazzi No, ecco, aspetta, aspettate, aspettate, aspettate Vediamo tutte le iscrizioni Vediamo un po' Non mi dire che, ah eccola qui l'iscrizione Niente, ragazzi, fortunatissimo Il primo che ho estratto ha vinto Contattami su Telegram che ti passerò la mail e la password per poter entrare Che altro dire, ragazzi Aspettate la prossima settimana per il prossimo contest di Netflix Vediamo se riesco a tirare fuori qualcosa durante la prossima settimana Vi faccio vedere l'ora Vedete che non è che ci ho messo molto 3 minuti, ragazzi Da 10 a 13 Comunque, come dicevo Spero di poter fare anche qualche altro contest Perché ho intenzione di fare qualche altro contest Riguardanti PSN, Netflix, Sharkard Cazzi e mazzi, insomma E dipenderà dagli sponsor Comunque sia Detto questo, ragazzi, che dire Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti No mercy Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti